Luciano De Cecco, una grande impresa ad Ancara e c'è la tua firma. Come arriva la Lube qui in Italia? Siamo contenti, sicuramente vincere Ancara non è facile. L'anno scorso abbiamo veramente subito tanto, quest'anno siamo riusciti a giocare bene a pallavola, a fare una bella partita. Loro hanno giocato forte, palsetto gremito, pieno di gente, che non è facile giocarci, quindi diciamo che è stata una vittoria importante. Adesso dobbiamo mettere in testa quelle che saranno le prossime partite e tenere questa partita bene in mente perché abbiamo giocato veramente a pallavola. Due viaggi molto impegnativi per andare a tornare e domenica una partita difficile. Torniamo in palestra con la mentalità giusta per la fronte della partita domenica che sarà importantissima e dobbiamo tenere duro. Alla fine giocare in queste squadre qui che giochi Champions o Coppa d'Europa e il campionato è quello che è, non possiamo uscire noi dal calendario, quindi dobbiamo attenerci a quello che è e dare il massimo di noi. Per l'ennesima volta incontrerai degli ex con cui hai vinto, con cui hai giocato a lungo, che effetto ti farà? Nessuno, alla fine siamo amici fuori, ma dentro il campo ognuno fa il meglio per la sua squadra, quindi sicuramente tanto loro come noi proveremo a portare i punti della nostra casa e niente, sarà importante avere l'approccio giusto.